Istituto Sant'Ambresi, la prima scuola per diventare di Milano in sole 24 ore. Ciao testine, tittacca a tutti, siamo qui nell'angolino dei corsi per spiegare di uno dei corsi fondamentali dell'Istituto Sant'Ambresi. Corso di comportamento di Milano, un corso veramente eccezionale che verrà tenuto in aule super attrezzate con dei veri professionisti del settore. gente ragazzi che in due ore alla settimana vi insegnerà tutti i trucchi segreti per diventare di Milano. Avete capito? Correte a descrivervi perché guardate che l'ha l'orologio di Milano. Fa tic tac, Giancarlo partiamo con quel tributo? Tic tac. Venite che andiamo a trovare sto ragazzo, sto insegnante, uomo in gamba, uomo vero di Milano. Ciao abbruchino! Estintore di Milano, va? Tic tac. Dizionario di Milano, tic tac. Assessore di Milano, va? Toc, toc, toc. Allora! Che è? Assessore, vedi?